Jason. Jason riuscì a sopravvivere, per un pelo. Più tardi, i suoi amici gli spiegarono che lo avevano visto precipitare dal cielo solo all'ultimo secondo. Frank non aveva fatto in tempo a trasformarsi in un'aquila per afferrarlo al volo, né avevano fatto in tempo a escogitare un piano di salvataggio. Solo la prontezza di spirito e la lingua magliatrice di Piper gli avevano salvato la vita. Aveva gridato «Svegliati!» con una tale forza che il figlio di Giove si era sentito come escosso da un defibrillatore. In un millisecondo Jason aveva evocato i venti, evitando di trasformarsi in una macchia fluttuante di grasso semidivino sulla superficie dell'Adriatico. Tornato a bordo, aveva preso Leo in disparte e gli aveva suggerito una correzione di rotta. Per fortuna l'amico si fidava abbastanza di lui da non chiedere spiegazioni. «Posto strano per le vacanze», commentò il figlio di Efesto con un gran sorriso. «Ma il capo sei tu!» Adesso, seduto con gli altri in mensa, Jason era così sveglio da dubitare che avrebbe dormito per una settimana. Non riusciva a tenere ferme le mani. Continuava a tamburellare i piedi per terra. Pensò che per Leo quella era la norma, solo che Leo aveva il senso dell'umorismo. Mentre lui, dopo quello che aveva visto in sogno, non aveva molta voglia di scherzare. Durante il pranzo riferì la sua visione al resto dell'equipaggio. I ragazzi rimasero in silenzio così a lungo da permettere a Hedge di ingurgitare un sandwich alla banana e burro di arachidi con il piatto e tutto. La nave procedeva cigolando lungo l'Adriatico, con i pochi remi intatti ancora disallineati dopo l'attacco della tartaruga gigante. Di tanto in tanto, Festus strideva e crepitava negli altoparlanti, riferendo lo stato del pilota automatico in quella strana lingua meccanica che solo Leo capiva. «Un messaggio di Annabeth.» Piper scosse la testa, confusa. «Non capisco come sia possibile, ma se è viva», concluse Leo. «Ringrazia gli dèi e passami la salsa piccante.» Frank corrugò la fronte. «Che vuol dire?» Leo si tolse le briciole di patatine dalla faccia. «Significa... passami la salsa piccante, Zhang. Ho ancora fame.» Frank fece scivolare sul tavolo un vasetto di salsa. «Non riesco a credere che Reina cercherà di rintracciarci. Venire nelle antiche terre è proibito. Le toglieranno la carica di pretore.» «Ammesso che sopravviva», commentò Hazel. «È stato già difficile per noi, insette con una nave da guerra.» «E con me!» Edge fece un rutto. «Non dimenticatevi, Angioletti, che avete il vantaggio di un satiro dalla vostra!» Jason non poteva fare a meno di sorridere. Edge a volte era piuttosto ridicolo, ma in effetti era un bene che ci fosse. Pensò al satiro che aveva visto in sogno, Grover Underwood. Non riusciva a immaginarsi un satiro più diverso da Edge, ma entrambi sembravano coraggiosi, a modo loro. Ripensò ai fauni del campo Giove. Sarebbero potuti diventare così, se i semi dei romani si fossero aspettati di più da loro. Un'altra cosa da aggiungere alla sua lista.» «La sua lista. Non si era reso conto di averne una fino a quel momento, ma era da quando aveva lasciato il campo mezzosangue, che rifletteva su come rendere il campo Giove più... greco.» «Era cresciuto al campo Giove. Se l'era cavata bene. Ma era sempre stato un po' anticonformista. Le regole lo irritavano.» «Si era unito alla quinta coorte perché tutti gli dicevano di non farlo. Lo avevano avvisato che era l'unità peggiore.» E quindi lui aveva pensato «Bene, farò in modo che diventi la migliore.» Una volta diventato pretore, aveva promosso una campagna per rinominare la legione prima invece di dodicesima, a simboleggiare un nuovo inizio per Roma. L'idea aveva rischiato di provocare un ammutinamento. Nuova Roma si reggeva sulla tradizione e sul retaggio dell'antichità. Le regole non cambiavano facilmente. Jason aveva imparato a conviverci, ed era perfino riuscito ad arrivare al vertice. Ma adesso che aveva visto entrambi i campi, non poteva togliersi di dosso la sensazione che il campo mezzosangue gli avesse insegnato qualcosa di più su di sé. Se fosse sopravvissuto alla guerra contro Gea e fosse tornato al campo Giove come pretore, avrebbe potuto cambiare le cose in meglio? Era suo dovere. Allora come mai la sola idea lo riempiva di terrore? Si sentiva in colpa per aver lasciato Reina governare da sola, eppure una parte di lui voleva tornare al campo mezzosangue insieme a Paipere e a Leo. Era un pessimo capo a pensare una cosa del genere, si disse. «Jason?» chiamò Leo. «Argo 2 chiama Jason!» «Rispondi, Jason!» Il figlio di Giove si accorse che gli amici lo stavano guardando in trepida attesa. Avevano bisogno di essere rassicurati. Che fosse riuscito o meno a tornare a Nuova Roma dopo la guerra, ora doveva farsi avanti e comportarsi da pretore. «Sì, scusa!» Toccò il solco che Shirone gli aveva procurato fra i capelli. «Attraversare l'Atlantico è difficile, certo, ma non scommetterei mai contro Reina. Se c'è qualcuno che può riuscirci, è lei!» Piper rigirò il cucchiaio nella zuppa. Jason temeva ancora che fosse gelosa di Reina, ma quando lei alzò gli occhi, gli lanciò un sorriso che sembrava più beffardo che insicuro. «Beh, sarei proprio contenta di vedere Reina», disse la figlia di Afrodite. «Ma come farà a trovarci?» Frank sollevò una mano. «Non possiamo semplicemente mandarle un messaggio iride?» «Non funzionano molto bene», intervenne Edge. «Recezione terribile! Tutte le sere, lo giuro, mi viene voglia di prendere a calci la dea dell'arcobaleno!» Esitò. Diventò rosso come un peperone. «Coach?» Leo sorrise, sorgnone. «Chi ha chiamato tutte le sere, vecchio marpione che non è altro?» «Nessuno!» rispose Edge. «Niente, volevo solo dire che... vuole dire che ci abbiamo già provato», tagliò corto Hazel, e il satiro le lanciò un'occhiata colma di gratitudine. «Qualche magia sta interferendo. Forse Gea? Contattare i romani è ancora più difficile. Credo che ci stiano schermando». Jason guardò prima Hazel e poi Edge, domandandosi cosa stesse capitando al satiro e come facesse Hazel a saperlo. Ma ora che ci pensava, Edge non nominava la sua fidanzata Mellie da un sacco di tempo. Frank tamburellò le dita sul tavolo. «Reina non ce l'avrà, un cellulare. Eh... cioè no, lasciamo perdere. Probabilmente avrebbe poco campo su un Pegaso che sorvola l'Atlantico». Jason ripensò alla traversata oceanica del Largo 2, alle decine di scontri in cui avevano rischiato la vita. E Reina stava affrontando quel viaggio da sola. Non avrebbe saputo dire se era una cosa terrificante o formidabile. «Ci troverà!» esclamò. «Ha accennato a una cosa nel sogno. Si aspetta che io vada in un certo posto mentre ci dirigiamo verso la casa di Ade. Me ne ero dimenticato dire il vero, ma ha ragione lei. C'è un posto in cui devo andare». Piper si chinò verso di lui e la treccia le ricadde su una spalla. «Dove sarebbe questo posto?» I suoi occhi screziati lo confusero. «Una... una città che si chiama Spalato». «Spalato?» Piper aveva un profumo buonissimo, tipo caprifoglio in fiore. «Sì». Jason si domandò se la ragazza non stesse praticando una qualche magia di Afrodite. Era come se ogni volta che lui menzionava Reina, Piper lo confondesse a tal punto da non fargli pensare ad altro che a lei. «Beh, c'erano vendette peggiori. In effetti dovremmo esserci piuttosto vicini. Leo?» Leo premette il pulsante dell'interfono. «Come va lassù, amico?» Pestus cicolò e dimise un fiotto di vapore. «Dice che mancano una decina di minuti al porto», riferì Leo. «Anche se continuo a non capire perché vuoi andare in Croazia». «Già, perché?» disse Hazel. Jason notò che gli altri erano resti a incrociare lo sguardo di Hazel. Da quando la figlia di Plutone aveva usato la foschia contro Scirone, perfino lui si sentiva un po' nervoso accanto a lei. Sapeva che non era giusto nei suoi confronti. Era già abbastanza difficile essere figlia del dio degli inferi, però aveva messo a segno una gran bella magia sulla scogliera. E dopo, stando a quello che raccontava, le era apparso Plutone in persona. Era quello che i Romani generalmente chiamavano «un cattivo presagio». Leo scansò le patatine e la salsa piccante. «Beh, tecnicamente siamo in territorio croato all'incirca da ieri. La costa davanti alla quale abbiamo mangiato è la Croazia, ma credo che all'epoca dei Romani si chiamasse...» «Tu che dici, Jason? Palmazia?» «Dalmazia», disse Nico, facendo trassalire Jason. «Per Romolo e Remo!» Jason avrebbe voluto mettere un campanello al collo di Nico di Angelo per ricordarsi che c'era. Quel ragazzo aveva la fastidiosa abitudine di starsene sempre zitto in un angolo, confondendosi con le ombre. Nico si fece avanti, con gli occhi scuri puntati su Jason. Da quando lo avevano salvato dalla giara di bronzo a Roma, dormiva pochissimo e mangiava ancora meno, come se continuasse a sostentarsi con i semi di milagrana degli inferi. A Jason ricordava un po' troppo un demone carnivoro contro cui aveva combattuto a San Bernardino. «La Croazia si chiamava Dalmazia», riprese Nico. «Era un'importante provincia romana! Vuoi andare nel palazzo di Diocleziano, vero?» Edge si lasciò sfuggire un altro eroe corrutto. «Il palazzo di chi? È dalla Dalmazia che vengono i Dalmata? La carica dei 101, ma ancora gli incubi?» Frank si grattò la testa. «E come mai ancora gli incubi?» Jason vide che il satiro aveva tutta l'aria di volersi lanciare in un lungo discorso sui danni del cartone animato con i Dalmata, ma decise che era meglio non approfondire. «Nico ha ragione. Devo andare al palazzo di Diocleziano. È il primo posto in cui andrà anche Reina, perché sa che io andrei lì». Piper inarcò un sopracciglio. «E come mai Reina dovrebbe pensare una cosa simile? Perché hai sempre avuto una folle passione per la cultura croata?» Jason fissò il panino che aveva lasciato intatto. Era difficile parlare della vita che aveva vissuto prima che Giunone gli cancellasse la memoria. Gli anni trascorsi al Campo Giove sembravano inventati, come un film in cui aveva recitato decenni prima. Io e Reina parlavamo spesso di Diocleziano. Era il nostro idolo, come imperatore intendo, e ci sarebbe piaciuto molto visitare il suo palazzo. Ovviamente sapevamo che era impossibile. Nessuno poteva spingersi nelle antiche terre. Però abbiamo stretto comunque un patto. Se ci fossimo mai riusciti, ci saremmo andati. «Diocleziano». Leo riflette, poi scosse la testa. «Non ne so niente. Perché era così importante? È stato l'ultimo grande imperatore pagano», affermò Frank, che sembrava sconcertato dall'ignoranza di Leo. «Come mai non mi sorprende che tu lo sappia, Giang? E perché non dovrei? È stato l'ultimo imperatore ad adorare gli dèi dell'Olimpo, prima che Costantino adottasse il cristianesimo. Eisel annui. Qualcosa mi ricordo. Le scuole della mia vecchia scuola dicevano che Diocleziano era un gran farabutto, insieme a Nerone e Caligola. Guardò Jason. «Come mai era il tuo idolo?» «Non era un farabutto totale», disse Jason. «Sì, è vero, perseguitava i cristiani, ma a parte questo fu un bravo sovrano. Si fece strada partendo da zero e arruolandosi nella legione. I suoi genitori erano ex schiavi, o perlomeno sua madre lo era. Era un figlio di Giove, l'ultimo semidio a governare Roma. Fu anche il primo imperatore in assoluto a ritirarsi pacificamente e a cedere il potere. Veniva dalla Dalmazia, per cui tornò là e fece costruire un palazzo in cui trascorrere i suoi ultimi anni. La città di Spalato è cresciuta intorno a…» Jason guardò Leo, vide che stava facendo finta di prendere appunti con una matita invisibile e si fermò. «Continui, professor Grace», lo incalzò Leo con gli occhi sgranati. «Voglio prendere il massimo dei voti nel compito!» «Ma smettila!» Piper sorbì un'altra cucchiaiata di zuppa. «E perché il palazzo di Diocleziano è così speciale?» Nico si sporse in avanti e prese un po' d'uva, probabilmente il suo unico pasto del giorno. Dicono che si è infestato dal fantasma dell'imperatore. «La sua tomba è stata distrutta secoli fa, ma io e Reina ci siamo sempre chiesti se saremmo riusciti a trovare lo spirito di Diocleziano per domandargli dov'era stato sepolto», disse Jason. «Stando alle leggende, il suo scettro era stato sepolto insieme a lui». Nico abbozzò un sorriso inquietante. «Ah, quella leggenda!» «Quale leggenda?» domandò Hazel. Nico si rivolse alla sorella. «Si dice che lo scettro di Diocleziano poteva evocare gli spiriti delle legioni romane, purché adorassero gli antichi dèi». Leo fischiò. «Ok, ma adesso mi interessa. Sarebbe bello avere un esercito di zombie pagani dalla nostra quando entriamo nella casa di Ade. Non la metterei proprio in questo modo, ma in sostanza è così», disse Jason. «Non abbiamo molto tempo», gli avvisò Frank. «È già il 9 luglio. Dobbiamo raggiungere l'Epiro, chiudere le porte della morte, che sono sorvegliate da un gigante di fumo e da una maga che vuole...» Hazel esitò. «Beh, non so che cosa voglia di preciso, ma stando a Plutone intende ricostruire il proprio dominio. Qualunque cosa significhi non è assolutamente un bene, se mio padre ha sentito il bisogno di avvertirmi di persona». Frank sbuffò. «Se sopravvivremo a tutto questo, dovremo ancora trovare il luogo in cui i giganti stanno svegliando Gea e arrivarci prima del primo agosto». «È come se non bastasse. Più Percy e Annabeth rimangono nel tartaro...» «Lo so», lo interruppe Jason. «Non ci staremo molto, a Spalato. Ma per trovare lo scettro vale la pena fare un tentativo. Mentre siamo nel palazzo posso lasciare un messaggio per Reina, in modo da farle sapere quale rotta prendiamo per l'Epiro. Nico annui. Lo scettro di Diocleziano potrebbe fare un'enorme differenza. Gli servirà il mio aiuto». Jason tentò di nascondere il proprio disagio, ma gli venne la pelle d'oca al pensiero di andare in un qualsiasi posto insieme al figlio di Ade. Percy gli aveva raccontato alcune storie inquietanti sul conto di Nico. Non sempre si capiva bene da che parte stesse. Trascorreva più tempo con i morti che con i vivi. Una volta aveva attirato Percy in una trappola nel palazzo di Ade. Sì, certo, Nico aveva rimediato aiutando i Greci contro i Titani. Eppure... Piper strinse la mano a Jason. «Ehi, sembra divertente. Vengo anch'io». Lui avrebbe voluto gridare «Grazie agli dèi». Ma Nico scosse la testa. «Non puoi, Piper. Dobbiamo essere solo io e Jason. Forse lo spirito di Diocleziano si manifesterà a un figlio di Giove, ma è probabile che ogni altro semidio lo spaventerebbe. Io sono l'unico in grado di parlare con lui. Neppure Hazel ci riuscirebbe». Gli occhi di Nico scintillavano con aria di sfida. Sembrava curioso di vedere la reazione di Jason. Avrebbe protestato? La campana della nave suonò. Pestus cigolò e ronzò nell'altoparlante. «Siamo arrivati», annunciò Leo. «Siamo a Spalato. Pronti per la carica dei 101?» Frank mise un gemito. «Possiamo lasciare Valdessi in Croazia?» Jason si alzò. «Frank, tu difenderai la nave. Leo, tu hai delle riparazioni da fare. Tutti gli altri, date una mano in ogni modo possibile». «Per quanto riguarda me e Nico...» Si girò verso il figlio di Ade. «Beh, noi abbiamo uno spettro da rintracciare».